Questa è la realtà della vita. Dio ci trova dove siamo per condurci dove dobbiamo andare. Ad ogni passo del nostro viaggio, raggiungeremo vittorie e affronteremo sfide. Gioie e tristezze si alternano, così come i momenti difficili e le sorprese inaspettate. Nel percorrere i percorsi complessi dell'esistenza, abbiamo bisogno di un supporto solido che ci accompagni in ogni direzione, e questo sostegno è il nostro Dio onnipotente. Nei momenti in cui ci sentiamo impotenti, quando i problemi sembrano insormontabili, la soluzione è affidare tutto nelle mani divine e aspettare. Nulla può resistere al potere di Dio. Con Lui al nostro fianco, non c'è motivo di temere, poiché nessun essere è più forte. Se manteniamo la calma e la tranquillità, affronteremo tutte le sfide della vita, fiduciosi che Dio lotterà per noi. Dio non permette che i problemi sorgano senza uno scopo. Da ogni difficoltà può emergere una benedizione. Ogni nostra azione dovrebbe riflettere la gratitudine per ciò che Dio ha fornito. Se sei d'accordo, scrivi Amen nei commenti e iscriviti a questo canale. Che Dio benedica la nostra giornata. Vi ringraziamo. La tua partecipazione è essenziale per aiutarci a continuare a produrre e diffondere queste incredibili storie. Se il video ti è piaciuto, ti saremmo immensamente grati se potessi fare clic sul pulsante grazie mille e contribuire al canale, lasciando il tuo feedback nei commenti. Questo ci incoraggia e ci motiva a continuare a condividere con voi queste affascinanti storie.